Diciannovesimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Capricorno. La chiesa ricorda San Mario Martire. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Mario. Il nome deriva dal celtico Mar, poi latinizzato in Marius e significa maschio. Mario è una persona semplice e un po' tradizionalista. È molto attivo e non perde mai il buon umore. Accadde oggi. Il 19 gennaio del 1883 entra in funzione il primo servizio di illuminazione elettrica con cavi sospesi costruito da Thomas Edison. Chi è nato oggi? Tra i personaggi famosi nati il 19 gennaio ricordiamo il magistrato, vittima di mafia Paolo Borsellino e la cantante Janis Joplin. La citazione del giorno. Meglio agitarsi nel dubbio che riposare nell'errore. Romano battaglia. Dice il saggio. Chi la fa l'aspetti? Chi non la fa? Si purghi. Il bel paese. È senza dubbio uno dei luoghi più misteriosi, magici e carichi di fascino d'Italia. Stiamo parlando dell'antro della Sibilla cumana, un luogo a cui i visitatori possono accedere mentre esplorano il parco archeologico di Cuma. All'interno di questo tunnel di pietra, il più famoso oracolo del mondo, elargiva le sue misteriose profezie. L'antro della Sibilla è infatti un lungo cunicolo scavato nella roccia di forma trapezoidale con diversi bracci. Al centro del tunnel si trova una sala con dei sedili. È qui che la Sibilla riceveva. Gli studiosi sono però ancora incerti sull'origine di quella costruzione di cui non si conoscono gli artefici. grazie. 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 Grazie.